Ciao ragazzi, eccoci arrivati anche alla fine di questo 2020 che è terminato anche per Max Relativo. Oggi vorrei fare qualche breve aggiornamento riguardo a quello che è successo e quello che succederà all'interno del canale Max Relativo. Innanzitutto grazie tantissimo, ma proprio grazie grazie gigante perché siete tantissimi. Abbiamo chiuso il 2019 con 52 iscritti, finiamo il 2020 quasi con 300 iscritti e con oltre 16.000 ore di visualizzazione, quindi davvero grazie tante. Nell'ultimo anno in effetti, come vi ho già detto a giugno, la scaletta generale di Max Relativo, la programmazione, ha subito uno sconvolgimento perché tutti i programmi che ci eravamo fatti in testa, in particolare in collaborazione con Francesco, sono saltati e quindi abbiamo dovuto un po' rimescolare le carte in tavola, ma non ci aspettavamo una fedeltà così grande da parte vostra. Quindi davvero grazie perché se Max Relativo ha i numeri che sta facendo adesso è principalmente grazie al vostro sostegno. Quindi io ne approfitto fin da subito per chiedervi di cliccare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale. E adesso inizio a dirvi un po' cosa succederà nel 2021 proprio qui su Max Relativo. Allora innanzitutto vorrei fare un po' di razionalizzazione e un po' di pulizia perché chi ci segue sa benissimo che il numero di serie presenti sul canale è elevatissimo. A mio parere un po' troppo perché vedo che sto iniziando a fare un po' di confusione e soprattutto non riesco a mantenere una buona qualità dei video in tutte le serie. Quindi per il 2021 vorrei ridurre il numero di serie e concentrarmi su poche cose ma fatte molto molto bene. Inizieremo gennaio con due interviste di 30 minuti max fantastiche di cui una anche in inglese perché come vi avevo promesso avremmo iniziato questo percorso anglofono. Ci siamo riusciti e vogliamo iniziarlo proprio con un'intervista ad una persona fantastica. Davvero i primi di gennaio state collegati perché ci sarà un'intervista unica. Febbraio 2021 sarà il mese delle donne nella scienza e abbiamo deciso di dedicare tutto questo mese a una sfumatura più rosa con una serie di interviste e di video tutti appunto dedicati a questo tema delle donne nella scienza. Anche in questo caso abbiamo in programma interviste fantastiche. Non voglio anticiparvi troppo ma credetemi vale la pena seguirle anche se poi in effetti come avete visto i 30 minuti di 30 minuti max stanno diventando 35 40 a un'ora in alcuni casi. Ma si tratterà davvero di pezzi grossi e di interviste uniche sia per i temi che andremo a trattare ma anche per la mole dei personaggi che andremo ad intervistare. Quindi mi raccomando febbraio 2021 non potete dimenticarvelo. E poi a partire da marzo inizieremo questo processo di razionalizzazione di riduzione dei video delle serie perlomeno che durerà fino a giugno. Nel percorso da marzo a giugno cercherò di tornare a due video al mese. So che è un po' poco rispetto all'ultimo semestre dove ne sono usciti 4 o 5 al mese ma vi garantisco che fare il content creator qui su youtube non è così facile come sembra. Significa scrivere i video, girarli, montarli, fare la programmazione, contattare le persone per le interviste, scrivere le domande, inviargliele. È decisamente un'attività che porta via attualmente tutto il mio tempo libero e vorrei iniziare a contenerlo perché sta diventando gigante. E in questo processo di riduzione andremo un po' a tagliare quelle serie che hanno avuto meno successo. Una tra queste è a tavola con. Ci sono già dei video registrati quindi qua e là li pubblicheremo ma fondamentalmente è una serie che andremo a chiudere a breve. Mentre invece continuerà alla grande Chimica Pisce che vedo a tantissime visualizzazioni perché vi sta spiegando la chimica in modo penso facile dai commenti che leggo. Quindi quello andrà avanti non so fino a quando visto che il numero di puntate è tutt'ora indefinito ma spiegheremo la molarità, il numero di avogadro, come avvengono le reazioni chimiche, come bilanciarle, come fare la nomenclatura dei composti. Quindi su tutta questa parte chi mi capisce sarà probabilmente il progetto principale del 2021. E contemporaneamente anche tutti gli esperimenti di Try This At Home sono momentaneamente bloccati. Stiamo cercando di trovare una soluzione con Francesco, non so se riusciremo a trovarla. In ogni caso la serie per il momento è in stand by ma solo per questioni sanitarie non per altro. Poi altri progetti che mi vengono in mente sono tantissimi. Mi sarebbe piaciuto molto portarvi in giro per l'Italia a visitare alcuni luoghi di scienziati per parlarvi proprio in loco nel luogo in cui hanno fatto i loro esperimenti di quello che hanno scoperto. Ma purtroppo capite che questo è molto difficile nelle condizioni di spostamento in cui ci troviamo oggi. Quindi detto questo direi che per il 2021 non c'è altro. Io vi posso solo ringraziare tantissimo. Continuate a condividere i video con i vostri amici, scrivetemi le vostre richieste per email oppure scrivendolo nei commenti perché il vostro aiuto mi aiuta personalmente a direzionare il canale e quali video fare per capire quali sono i vostri interessi e i temi scientifici di cui si potrebbe parlare e che sarebbe utile affrontare anche solo per curiosità. Quindi max relativo si riduce un pelo torniamo ai due video al mese classici ma non scompare anzi continuiamo bomba e continuate a seguirci. Ovviamente noi siamo su youtube ma ricordatevi anche di instagram facebook linkedin twitter cercate di spargere voce a tutti a tutto il mondo a quelli che possono essere interessati riguardo ai temi che trattiamo sul canale. Io vi ringrazio ancora tantissimo per questo 2020. Spero che sia un 2021 altrettanto esplosivo per voi e per noi per il canale. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao ciao! Ciao!